FindOut è una piattaforma online che permette ai giovani creativi tra 18 e 35 anni di mostrare le proprie opere e quindi di ottenere visibilità, allo stesso tempo di partecipare a contest, di vincere quindi premi, interesse delle istituzioni e degli enti territoriali e quello di incentivare i giovani ad essere più coinvolti con la realtà che abitano. È una piattaforma online realizzata dal Politecnico di Torino in collaborazione con WIM TV all'interno del progetto Giovani e Crossmedialità WeArt Technology che vede come capofila il comune di Vigevano in collaborazione con una serie di enti territoriali. Sulla piattaforma FindOut sono stati finora indetti alcuni contest che hanno proprio lo scopo di coinvolgere i giovani con il proprio territorio, quindi di connetterli alla realtà in cui vivono. I destinatari principali della piattaforma FindOut sono da una parte i giovani creativi che con le loro opere possono contribuire a popolare la piattaforma, quindi i contenuti creativi, e dall'altro enti e imprese che possono quindi sponsorizzare la propria immagine proponendo dei concorsi, dei contest e riuscire a raggiungere dei giovani talenti per eventuali collaborazioni. Gli utenti di FindOut hanno la possibilità di gestire il proprio profilo personale con particolare attenzione al portfoglio in cui possono appunto caricare i vari contenuti creativi che possiedono oppure che decidono di creare appositamente per il contest. L'azienda che si iscrive a FindOut può, mediante la propria pagina personale, creare indire un concorso, un contest online, quindi mediante la stesura di un bando. Gli utenti possono partecipare caricando direttamente sulla pagina del contest la propria opera multimediale, che può essere un contenuto video, fotografico o testuale, e in cambio possono ricevere da chi ha indetto il concorso una serie di premi che possono essere reali o virtuali. Vince l'opera che ottiene il maggior numero di voti all'interno della community FindOut. Per quanto riguarda invece il voto attribuito dalla giuria, sono state composte delle giurie qualificate per decretare appunto il vincitore. Il primo contest di tipo fotografico, chiamato La Città Ideale, è stato lanciato nel mese di aprile. Con questo contest la community di FindOut ha raggiunto 300 utenti e raccolto circa 200 opere creative. FindOut è realizzato con il linguaggio di programmazione PHP e utilizza un meccanismo di gestione dei contenuti, quello che in gergo si dice un CMS, che è WordPress. È stato sviluppato dai membri del progetto FindOut un plugin apposta, realizzato ad hoc per WordPress, per creare e implementare le funzionalità di gestione e creazione di un contest. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, la piattaforma FindOut sarà integrata con nuove funzionalità, innanzitutto per migliorare la componente social. Verranno offerte degli strumenti per legare e mettere in comunicazione gli utenti, incentivare la pubblicazione di contenuti sulla piattaforma e la presenza più attiva per seguire gli aggiornamenti. Un altro sviluppo futuro è la creazione di una mappa, all'interno della quale verranno geolocalizzate le opere e i contenuti della piattaforma.